Ecco, siamo sempre a New Moon, due fenomeni che vanno per il gommone. Siamo molto prossimi del paradiso, ci saranno 24-25 gradi, un po' di venticello, il rumore degli alberi, la barca che continua a galleggiare, insomma, ha sempre i suoi vantaggi, loro che giocano, sono silenzio, siamo stati a vedere la chiesina, e c'è anche lui, tadaam, un'altra. Grazie a tutti. Eh, dove ci ha portato? Branca, branca, branca.